bella a tutti benvenuti in questo nuovo video oggi sono qui per parlare con voi in questo vlog di qualcosa di importante per me e per il canale finalmente ho tocchiato ho raggiunto la vetta di 100 iscritti sono anch'io parte del club dei centenari e ancora mi fa un effetto particolare non riesco ancora a comprendere come tutto ciò sia successo così rapidamente io ho iniziato il mio percorso due anni fa chi mi segue dagli albori tutto ciò l'ha vissuto assieme a me e in due anni essere riuscito ad arrivare a 100 iscritti e a oltre 30.000 visualizzazioni è per me qualcosa di spettacolare io sto scoppiando dalla felicità ragazzi perché è davvero meraviglioso vedere ogni giorno una visualizzazione in più sul canale un iscritto in più un like un commento un feedback la parte vostra io davvero non posso far altro che dirvi grazie 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 se tutto ciò lo sto vivendo è solo merito vostro io ogni giorno mi sveglio apro l'applicazione di youtube studio guardo tutto ciò che è avvenuto mentre non ero connesso su youtube tutto ciò che è cambiato grazie per tutto ciò che fate io vi prego di continuare ad essere così compatti sono davvero contento dell'andamento che ha preso il canale cerchiamo di andare avanti il più possibile e di raggiungere nuove mete e nuovi punti che saranno l'inizio di un nuovo percorso perché i 100 iscritti non sono un traguardo ma sono un nuovo inizio io cercherò di esserci sempre per voi vi prego di darmi il vostro sostegno vi prego davvero di continuare a seguirmi un bacione un abbraccio bello a tutti grazie 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 e grazie ancora